fratelli è arrivato il tempo che io venga a prendere ciò che è previsto che io abbia perché è scritto chi ha seminato dovrà raccogliere quello che è uscito deve rientrare e ciò che rimane insoluto rende l'uomo vittima di insidie guarda se per quei soldi ti giuro te li do dammi ancora un'altra settimana però